Il Consiglio Comunale di Battipaglia, come si evince dall'albo pretorio dell'ente, è convocato presso l'Aula Consigliare di Palazzo di Città per il 24 aprile alle ore 18 in prima convocazione e per venerdì 26 aprile alle ore 18 in seconda convocazione. I punti all'ordine del giorno sono tanti, 15 fra questi quelli di Motta sul diritto di prelazione sulla vendita a Casoni d'Oria, le interrogazioni dei consiglieri Speranza e Baldi per l'istituzione di apposita sezione dell'assito istituzionale dedicato all'emissione degli impianti di trattamento dei rifiuti, il quinto punto è il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a seguire l'approvazione del programma triennale lavori pubblici, al settimo punto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, poi vari provvedimenti da approvare, fra questi il criterio organizzativo fattore di pressione per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti. All'ultimo punto il quindicesimo è il federalismo demaniale con l'attribuzione al Comune a titolo di beni di proprietà statale di immobili in località aversana.